Vladimir Luxuria è ospite d'eccezione oggi al Museo archeologico civico di San Paolo di Civitate una persona molto sensibile legata al territorio d'Auno oggi questa scoperta queste questa visita che cosa ha voluto significare scoprire le mie radici nel senso che io sono una molto interessata alla nostra storia i nostri beni e si sa che l'Italia detiene oltre il 70% del patrimonio artistico e mi piace soprattutto il cosiddetto turismo alternativo cioè tutti quei luoghi che sono un po' al di fuori dei centri turistici più noti che ci fanno scoprire come se fosse uno scrigno tantissimi tesori oggi ho visitato un museo ricco di storia mi ha fatto anche molto piacere sentire essere guidata da tre ragazze volontarie molto giovani che quindi dimostrano come l'anticolo si può scoprire anche attraverso i giovani e invito a visitare questo museo perché è disposto bene c'è un'ottima illuminazione e perché serve ancora di più a conoscere la storia dei nostri antenati